Siamo allo stand di Print Solution con il responsabile del Lazio, Andrea. Andrea, puoi presentarci brevemente la tua azienda? Allora, la mia azienda qui è a Pomezia, la Centro Servizi Industriali. Siamo qui in fiera in quanto rappresentanti della Print Solution e della loro stampante digitale. È un prodotto che è da diversi anni sul mercato e che sta avendo, soprattutto in questi ultimi momenti, un ritorno importante. Per quanto riguarda la fiera, posso dire che siamo soddisfatti. Ieri una buona affluenza, oggi più che ottima. Tra l'altro mi fa piacere che vedo anche altri stand con diverse persone. Per quanto la fiera sia abbastanza piccola, i numeri mi sembrano interessati, poi magari quando verranno sviluppati ci diranno. Speriamo che sia l'inizio di un qualcosa di migliore e che usciamo da questo periodo che ci ha stufato. C'è un prodotto che puoi mostrarci, illustrarci brevemente? Guarda, in breve questa stampante digitale è per personalizzare buste, cartoni, supporti porosi con piccole tirature. Quindi è una macchina che non è impegnativa, che però permette di entrare anche al tipografo classico in un mercato che oggi a lui è precluso. Abbiamo visto a notevole riscontro e la fiera qui ce l'ha confermato. Ti ringrazio Andrea. Grazie a tutti. Grazie a tutti.